Al termine di un incontro combattuto fino alla fine, il San Cesario conquista i primi tre punti, superando per 2-1 un ostico Terracina fresco di promozione. La scuola di Ferrazori sfira il gol con Del Vecchio e Siclari è dal terzo tentativo al 27esimo faccentro. Merito di Siclari, che si esibisce in una splendida azione personale. Salta tre difensori, la sfera giunge a De Paulis, che con una saetta insacca sotto l'incrocio dei pali. All'inizio della ripresa i pontini si fanno più intraprendenti, dal settimo pervengono al pareggio. Su azione d'angolo la palla arriva a Varchetta, che l'accompagna con il corpo verso la rete. Interviene alla disperata Matera, ma per l'arbitro la sfera aveva già oltrepassato la fatidica linea bianca. La scuola di Bacci insiste, vuole la vittoria, ma Nuvoli becca la traversa. E dal 27esimo la rete del definitivo vantaggio del San Cesario, a seguito di un'azione da manuale iniziata da Bernardi, rifinita da De Paulis. E' realizzata da Longobardi, che invita il portiere in uscita e lo batte con un gran fendente sul secondo palo. C'era ammarico perché è la stessa cosa che è capitata domenica scorsa, paghiamo questi errori di gioventù perché abbiamo commesso due errori grossolani. Però purtroppo quando si commettono determinati errori, più delle volte si viene puniti. E' stato un peccato perché, come giustamente hai detto tu, nel momento migliore, che avevano ripreso la partita in mano, sembrava che la dovessimo fare nostra del tutto. Invece una palla persa stupida, in un contropiede rapido, ci hanno puniti ed è finita la partita. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione per raddoppiare e quindi per chiudere magari la partita, evitando di soffrire un po' troppo, come invece poi è successo il secondo tempo. Sapevamo che il Terracina è una squadra che credo che da qui alla fine sarà una di quelle che faranno un po' la partita protagonista durante il campionato. Abbiamo sofferto, abbiamo portato a casa una partita sicuramente molto molto importante.